ciao a tutti stiamo pubblicando questo video a seguito delle numerose richieste di spiegazioni spiegazioni per poter rilasciare una recensione nei confronti della nostra pagina intanto vi ringraziamo tutti perché è un segnale di sensibilizzazione di gratitudine nei nostri confronti per il lavoro che stiamo svolgendo e ringraziamo anche il nostro video lettore albino che si sta prestando nell'effettuare questo video per spiegarvi appunto come effettuare una recensione nella pagina come vedete in alto avremo dei pulsanti home post recensioni video foto questi stessi pulsanti li potrete trovare a secondo della visualizzazione del telefonino anche nella parte centrale cliccando su recensione porta in un'altra pagina alle valutazioni di altre recensioni che sono state fatte da altri video lettori nella parte centrale c'è l'icona del nostro video lettore di albino e c'è scritto scrive una recensione clicchiamo a destra sul disegno della penna e abbiamo la possibilità di dare cinque valutazioni quindi una stella non mi è piaciuto per niente speriamo di no due stelle non mi è piaciuto tre stelle va bene quattro stelle mi è piaciuto cinque stelle mi è piaciuto moltissimo ovviamente albino c'è dato l'autorizzazione di mettere cinque stelle perché a lui la nostra pagina è piaciuta moltissimo clicchiamo a destra quindi sulla stellina di destra e apparirà la recensione mi è piaciuto moltissimo e poi c'è la possibilità di poter mettere una breve descrizione a vostra descrizione o c'è scritto è facoltativo se volete scrivere qualcosa scrivetela pure altrimenti cliccate sul pulsante in alto sulla barra blu con la scritta fine a questo punto verrà pubblicata la recensione grazie a tutti se avete bisogno di ulteriori spiegazioni scrivete nei commenti di questo post